La mia famiglia è la mia famiglia e mai i nostri sogni! Mi sono ridi sempre così, se faccio improvire. Vuoi vedere che io lo faccio? Ma che questa è l'ultima Raffaella, non famosa! Eppai! Ha chiamato sta arriva, ha chiamato sta cà, ha chiamato sta là! Ciao, ciao! L'hai chiamato l'animo! E poi mi hanno vediato! Estruz! Oh, ma io l'ho detto niente di strano, io sono veramente il grande fratello. Vuoi volete entrare in quella casa? Sì che voglio entrare. E c'entrerebbe. Ma tu hai ripigliato l'uscetto, tu ti rendi a capato! Ma che combinate? E non mi ha ripigliato niente! Hai capito? Perché come ti dico, tu non vuoi capire! Confermata, pezza qua! E quiробi tanto la nulla lanche dove per capire, non sorprendi! E qui lo presti esику! Confermata, pezza qua!